È un grido d'allarme quello che ha lanciato il presidente di Federacciai Antonio Gozzi nel corso dell'assemblea svolta sia a Milano. Un settore di eccellenza che merita di essere sostenuto dal governo, dice Gozzi parlando della siderurgia, un settore che tiene malgrado i casi di Piombino e Taranto. Sempre Gozzi parla di ILVA destinata al fallimento. La presenza di un commissario con una scarsa conoscenza del mondo della siderurgia sarebbe una fra le tante cause, secondo il presidente di Federacciai, che rischiano di portare l'azienda che perde tra i 60 e i 70 milioni di euro al mese al collasso. La situazione dell'ILVA è una situazione molto difficile perché c'è stato un degrado progressivo della gestione economica negli ultimi 12 mesi e perché non si configura ancora una vera soluzione industriale che non sta soltanto in un piano astratto ma in una compagina azionaria capace di mettere in pratica sia piano industriale che piano ambientale e quindi di avere le risorse finanziarie per farlo. Seguiamo con preoccupazione la vicenda. L'ILVA di Taranto è un asset dell'economia nazionale. Bisogna assolutamente fare tutto il possibile per salvarla. Ci stiamo lavorando e anche come Federacciai mi sto impegnando a fondo per dare il nostro contributo.